Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo annuncio ASMR, non sarà un video vero e proprio, sono qui semplicemente per riemproverarvi perché vi ho chiesto sotto un video di lasciarmi delle domande a cui avrei dovuto rispondere in un altro e voi non me le avete lasciate neanche una, secondo me perché l'ho detto alla fine del video e quindi molti di voi non se ne sono accordi perché evidentemente non guardate i miei video fino alla fine e questo è un male, un male, molto male, non si fa e quindi vi do quest'ultima possibilità se avete voglia di vedere un nuovo video di risposta alle vostre domande magari con delle domande nuove a cui non ho già risposto in altri dato che ne ho registrati tanti in questi tre anni ecco, se avete delle nuove domande o siete nuovi sul canale e avete delle curiosità che vi volete togliere vi do la possibilità di lasciare domande sotto questo mini video in modo tale che io possa registrare questa settimana un video di risposta alle vostre domande basta, questo è tutto spero di riceverle almeno qualcuna ciao a tutti